Le nature morte sono una parte fondamentale della produzione di Braque insieme alle Colombe. Questa litografia del 1955, numerata in 150 esemplari al mondo, racchiude i due universi in simbiosi tra loro. Braque annulla tutte le regole dettate dalla prospettiva e dall'armonia compositiva, sconvolgendo spazi e piani e semplificando linee e forme. Il cubismo voleva proprio dettare nuove regole alla pittura, infatti rappresentò il cambio stilistico più grande della storia, rivoluzionando completamente il concetto di arte e aprendo le porte ad una nuova concezione di pittura. Nel periodo del Novecento era un pensiero difficile da accettare, ma Braque e Picasso fecero quanto più il loro potere per trasmettere le loro idee innovative, consapevoli che un giorno avrebbero cambiato il mondo.